buongiorno siamo in diretta dagli uffici di nexiu italia benissimo citofoniamo buongiorno sì buongiorno è possibile parlare con qualcuno dei responsabili di nexiu italia ok per direttive covid non siete aperti a pubblico quando tutti gli altri uffici sono aperti io sono alessia del gatto e la volpe nel web volevo darvi la possibilità di difendervi e di dire cosa sta succedendo davvero dovete difendervi da niente sicuro quindi io se adesso faccio un salto alla grande mela e vado a domandare su al direttore cosa che ho già fatto telefonicamente dei buoni da 100 euro cosa mi diranno eh sì ma almeno il direttore del centro commerciale dovrebbe esserne informato tipo voi avete fatto anche un simpatico video eh